Grazie Presidente. Oggi si riapre il capitolo AMA. Siamo tutti consiglieri di Roma Capitale, maggioranza e opposizione. Io ancora oggi mi chiedo, fatto salvo che ogni volta si viene a ribadire che la precedente amministrazione ha chiuso Malagrotta, per carità, tutti i meriti del mondo, però ha chiuso Malagrotta anche perché se non lo faceva c'era una sanzione giornaliera di 230.000 euro al giorno, sfido chiunque a mantenerla aperta e se non c'era questa sanzione magari oggi ancora era aperta e la colpa era dalla raggi. Il dato non è tanto questo, il dato è che siamo tutti consiglieri di Roma Capitale, non si capisce per quale motivo, gli unici che protestano nei confronti della Regione Lazio, governata dal PD Nicola Zingaretti, sono cinque anni, quattro e mezzo perché è da quattro e mezzo, che devono fare il piano rifiuti regionale con i nuovi fabbisogni, visto che chiudendo Malagrotta che gestiva un terzo dei rifiuti di tutta la Regione non l'hanno fatto. Il problema è di Roma Capitale quando tutti sanno che lo smaltimento è in funzione dell'equilibrio impiantistico, questo lo dice la normativa regionale, che c'è in tutto il territorio regionale. I consiglieri di maggioranza lo dicono, però quelli dell'opposizione o lo dimenticano o proprio non lo ricordano, non si è capito. Ieri si parlava di efficientamento, addirittura ho sentito delle considerazioni rispetto all'azienda investimenti che viene chiusa, perché per carità questa è una città che dovrebbe pensare agli investimenti, efficientare. Io mi chiedo, si parla adesso di Ama, si dice che la città è sporca, per carità non lo negiamo. In alcune parti la città è in sofferenza, il motivo lo abbiamo spiegato. Il sistema di raccolta stradale è regolato con un meccanismo abbastanza semplice, passa il compattatore, svuota il cassonetto stradale, ma l'autista non può scendere a raccogliere i sacchetti che sono in terra o comunque non può scendere a sistemare il cassone, perché il contratto di servizio glielo impedisce. Questo sistema era stato organizzato in modo tale che dietro al mezzo vettore, il compattatore, passava uno squaletto. Se parliamo di efficienza, un'azienda che negli anni fa una programmazione del servizio ovviamente si preoccupa che tutti i mezzi siano in esercizio, siano funzionanti. Abbiamo scoperto che gli squaletti praticamente non ci sono più, perché sono tutti rotti, perché sono arrivati a fine vita. Chi ha efficientato questo processo prima che arrivassimo noi? Nessuno. Lo stiamo facendo noi. Sappiamo che a novembre arriveranno 80 squaletti nuovi in affitto, altri 90 da una gara pubblica, la gara che stanno chiedendo, cioè ci chiedono di fare delle cose in ama che stiamo già facendo, poi si lamentano se gli bocciamo gli vendamenti o gli ordini del giorno. E questo io veramente oggi vorrei sottolineare, perché altrimenti non si capisce anche il motivo per cui dobbiamo sempre stare a dire i dati. sto chiudendo, per cui sulla raccolta differenziata, cari miei colleghi, il solo due mese di agosto ha registrato un 45%, il trend è in aumento, 44,5% a livello nazionale, e il piano, perché l'abbiamo presentato, un piano sui rifiuti, anzi chiamiamoli per come vanno chiamati, materiali post consumo, dice che a fine anno dovremo avere il 48%, sicuramente l'assessore riferirà a fine anno i risultati raggiunti e allora potremo fare i correttivi, se ci sarà necessità di fare i correttivi. Ma ad ora, mi sembra che quello che serve in questa città è stare tutti schierati e chiedere magari a tutte le istituzioni governate da voi, di dare quella mano che serve, perché altrimenti se continuiamo come è successo finora, dove vengono sparate soltanto le fake news per cui si riapre Malagrotta, ricordo in passato, tutte queste robine qui, ovviamente non aiuta alla città e non aiuta neanche ai cittadini. Grazie.